e la storia Oggi è il 2 marzo 2003 Le nuove BR uccidono Emanuele Petri sul treno Roma-Firenze 1919 Mosca Nasce il Comintern 1931 Nasce Mikhail Gorbaciov Commenta il fatto del giorno Maurizio Lucchi Direttore della Prealpina Ho scelto Papa Pacelli per la sua immagine di grande umanità in mezzo alla folla Grazie a tutti Grazie a tutti